Qual è la cosa più importante che abbiamo? È la nostra vita, la nostra salute, il nostro corpo. Io abito in mezzo alla vigna che coltivo da circa 20 anni, con la mia famiglia e i miei bambini. Penso che questo sia il miglior modo di certificare la qualità di quello che produci, vivere all'interno della coltivazione che fai, in modo tale che se te avveleni la tua terra, avveleni prima di tutto te stesso e la tua famiglia. Perché io dovrei produrre qualcosa che fa male alla mia salute? Mangiare qualcosa che fa male alla mia salute? Ed è la cosa più importante in assoluto, noi siamo quello che mangiamo. E se mangiamo qualcosa di sporco, qualcosa di malato, qualcosa di infetto, il nostro corpo diventa sporco, malato e infetto. E questo nessuno lo vuole. Il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia produce vino da tantissime generazioni, qui in Toscana. Il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia che fa male alla mia famiglia, il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia, il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia, il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia, il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia, il mio nome è Pier Giorgio Castellani, dunque la mia famiglia, Grazie a tutti.